Due parole per presentare Toscana in Tour. Toscana in Tour è una serie di incontri che promuoviamo sul territorio della Toscana per andare a incontrare i territori, per andare a incrociare le loro reti di relazioni, per andare a conoscere esplorando i vari territori con l'obiettivo di mettere in sinergia le persone di quel territorio, portare nuove esperienze da altri territori. Stasera abbiamo iniziato qui a Livorno, seguirà Lucca, Pistoi, Arezzo, Pisa, Pontedera, eccetera. Potrete seguire tutto il nostro tour all'interno del nostro sito. L'idea che ci ha mosso per proporre questo tour all'interno delle varie province toscane è un po' quello che probabilmente a competere non sono solo le aziende ma sono anche i territori ampiamente detti, territori intesi come rete tra la pubblica amministrazione, la ricerca, le grandi imprese e le piccole imprese presenti all'interno dello stesso territorio. Quindi far conoscere, conoscersi e esplorare queste singole province, questi singoli territori è per noi davvero un'occasione per andare nei meandri, nelle pieghe della Toscana a incontrare i nostri soci e a farli conoscere ad altri soci che poi è l'obiettivo primario di Toscana Inn. Questo è e sarà Toscana in tour e speriamo di incontrarvi nelle prossime tappe. Stasera qui a Livorno c'era tantissima gente, questo ci fa davvero tanto piacere, era il nostro esordio, era il nostro numero zero, era il nostro esperimento e vi aspettiamo nelle prossime tappe che trovate sul nostro sito. Grazie.